Ma guarda sono rimasto molto molto dispiaciuto perché io ho stato una settimana che si è parlato sempre del razzismo, ma la Juve qui noi queste cose le abbiamo sempre sempre combattute, mi dà anche un po' fastidio chi si è parlato tanto, poi si è un po' ben redimensionato questo pensiero, ma noi abbiamo sempre sempre combattuto il razzismo qui alla Juve. Una partita di oggi quindi qua è terra spagnola, è difficile perché però ci può dare una grande spinta per crescita nei valori, modo di giocare, perché noi abbiamo bisogno di questa grande squadra per cercare nostra lenta ma poi anche graduale crescita come condizione per proseguo campionato e anche poi coppa, ma questo è più di ogni altra cosa, certamente questa partita ci può permettere di crescere tanto per condizione fisica futuro, ma anche poi se vogliamo anche nei valori di squadra e anche come mentalità.